Il 31 ottobre in 62 città italiane si celebra la 14esima edizione della giornata nazionale del trekking urbano. Anche Cosenza partecipa all'iniziativa con un'edizione speciale di 5 sensi di marcia dal titolo a passo di trekking tra misteri e leggende. I 5 sensi rientrano all'interno di un'idea voluta dall'amministrazione ormai già da tre anni, ma puntualmente attraverso delle edizioni speciali aderisce quelli che sono anche degli appuntamenti nazionali, come in questo caso il trekking nazionale che in tutta Italia annovera moltissime città e che vuole essere punto di partenza per un progetto importante di promozione, di conoscenza, di valorizzazione dei luoghi dove siano i cittadini protagonisti attraverso la loro passeggiata, attraverso il loro trekking, nelle vie, nei luoghi fascinosi della città. La prima tappa dell'itinerario di 5 sensi di marcia con il supporto di guide esperte descrive uno dei dipinti del museo storico all'aperto, la donna Brezia. Tappa successiva è la confluenza dei fiumi tra le suggestioni della storia e il fascino evocato dalla statua di Alarico di Paolo Grassino. L'itinerario di trekking urbano prosegue fino alla chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, nella piazza detta delle Uova e nel quartiere dello Spirito Santo per conoscere la storia dell'astrologo del Cinquecento, Rutilio Benincasa e del suo famoso almanacco. Altra tappa fondamentale dell'itinerario è il Vallone di Rovito per una visita all'Ara dei Fratelli Bandiera. La passeggiata continua fino al Monastero delle Vergini e si conclude in Piazza dei Valdesi dopo una visita alle botteghe artigiane di Corso Telesio.